Mi aspetto che vada bene, non per presunzione, però penso di meritarlo. Fabio De Gennaro ha 25 anni e viene da Bitonto, in provincia di Bari. È forte e determinato e non ha smesso di impegnarsi per realizzare il sogno della musica, anche quando significa grande sacrificio. Le condizioni economiche della mia famiglia non mi permettevano di approfondire gli studi e quindi di formarmi veramente per continuare in questa strada, quindi ho dovuto lavorare. Ho fatto tanti sacrifici nella mia vita per poter andare avanti. E adesso sono qua, spero che i sacrifici non siano stati vani. Ci sono dei segnali che un po' mi fanno pensare, tipo il mio portafortuna è il numero 4, questo è anche The Voice 4, quindi forse qualcosa si muove. E adesso sono qua, spero che i sacrifici non si muove. E adesso sono qua, spero che i sacrifici non si muove. We've got these kings as to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't creep a secret to yourself. It's Kama Sutra Shanta. Eccolo! 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 No, ha l'indole romantica, mi fratello. Bravo! Mi chiamo Fabio, ho 25 anni, vengo da Bitonto, provincia di Bari.